tanta guagna per tutti ragazzi io sono mischio e oggi sono qua per parlarvi di tante cose tutte insieme ed è un piccolo blog che faccio principalmente per voi prima cosa volevo parlarvi del progetto portato avanti da guagna salvo un giorno con guagna sono veramente felice di vedere che questa iniziativa vi sia piaciuta e abbia portato a tanti ragazzi la felicità mamma mia sembra una roba del terzo mondo comunque sono contento che molti di voi si siano divertiti con questa iniziativa ne faremo sicuramente delle altre se con te adesso parliamo del games week ragazzi sapete tutti che come ogni anno verso fine ottobre c'è a milano una delle fiere più importanti forse solo dopo a romix nella quale verranno presentati numerosi giochi in anteprima e quest'anno anche ovviamente le console ps4 xbox potremmo provarle con le nostre mani prima dell'uscita volevo appunto annunciarvi che tutto lo stato di guagna sarà al games week dal 25 al 27 ottobre spero che molti di voi veniate a trovarci a salutarci noi ovviamente gireremo tutto il giorno per la fiera potrete riconoscerci ovviamente per la maglietta spero che riusciremo a incontrarvi tutti a fare due chiacchiere insieme a voi sarà sicuramente una bellissima occasione per stare tutti insieme e divertirci per tre giorni di fila molto a terra un saluto anche a lei ovviamente l'ara l'ara conoscete l'ara lui mi guarda mali ma l'ara comunque ragazzi cosa molto importante ma l'ara ma secondo voi il finale zombie come cacchio l'abbiamo preso noi e ci abbiamo lavorato 24 ore al giorno no ragazzi a parte tutto spero che molti di voi siano stati contenti e felici di vedere quello che siamo riusciti a portare sul canale veramente ringrazio moltissimo e tutti i collaboratori con xbox che ci hanno aiutato a portare tutti quei video in brevissimo tempo ringrazio blu soprattutto che ha lavorato più di tutti ringrazio anche tutto lo staff come pietro martelli max che ci hanno aiutato per le altre sequenze un saluto anche a l'ara e se non clicchi mi piace dopo te la vedi con lui è il mosso cazzi insomma ragazzi ci sono 30 gradi qua nischio che vi parla cappellino sexy l'ara croft a fianco angry birds che ci guarda dall'alto che sta meglio di noi un saluto a tutti si sto parlando proprio con te guagna black se non muovi il culo a tornare a casa dal ciao